Lotta per la sua vita da quasi una settimana in un letto della terapia intensiva della pediatria dell'azienda ospedale Università di Padova, il bambino di sette anni che vive con la famiglia a Solesino. Giovedì pomeriggio della scorsa settimana il piccolo stava giocando in piscina con altri bambini nella casa privata di una famiglia di amici a Vescovana. Tutto è accaduto in pochi minuti. Il bambino è finito nel fondo della piscina dove è rimasto per interminabili lunghissimi attimi. Quando se ne è accorta la mamma si è gettata in acqua. Immediata la richiesta di aiuto al 118 che ha provveduto al trasporto del bambino in elicottero all'ospedale di Padova dove si trova tuttora. Della vicenda sono stati informati i carabinieri. Vicino alla famiglia anche il sindaco di Solesino, Elvi Bentani, che segue passo a passo l'evolversi delle condizioni. Stringiamo con molto affetto e con il cuore al dolore della famiglia e preghiamo tutti insieme come comunità cristiana affinché il tutto si risolva per il meglio. Sottoposto da alcuni esami nella giornata di ieri la famiglia del piccolo avrebbe ricevuto esiti che continuano a tenere accesa la speranza. La comunità di Solesino e della frazione di Arteselle si è riunita in preghiera in questi giorni per il bambino e i suoi genitori.